Era stato sorpreso mentre girava con un coltello da cucina lungo 22 centimetri in mano, un cittadino indiano che nella notte del 19 luglio è stato segnalato vicino ad un locale pubblico, preoccupando i passanti e i gestori del locale. Per l'uomo, 24enne, il questore Dario Sallustio ha emesso un daspo Willy, vietando al soggetto l'accesso a tutti gli esercizi pubblici della zona per la durata di due anni. Tra i provvedimenti emessi dal questore nel fine settimana per contenere i fenomeni legati alla movida molesta, risultano altri cinque daspo Willy a Schio nei confronti di avventori di esercizi pubblici e bar che nella notte del 21 avevano dato origine ad una rissa che, con non poca difficoltà, i carabinieri intervenuti erano riusciti a sedare. In questo caso, ai cinque soggetti è stato impedito l'accesso e lo stazionamento nelle immediate vicinanze a tutti i locali pubblici della piazza Garibaldi e di Via Castello, in Troschio, vietando nello specifico l'ingresso e la frequentazione di cinque esercizi pubblici per la durata di due anni.